Mai come in questo momento è importante parlare di servizi ecosistemici di capitale naturale, perché proprio in questo momento con il lockdown abbiamo avuto la necessità di usufruire degli ecosistemi, di fare una passeggiata nel bosco, sul mare, eccetera. Quindi questo è importante assumere consapevolezza di quello che gli ecosistemi in buono stato possono fare per noi. Quindi diventa importante riuscire a capire quali sono le funzioni che gli ecosistemi sviluppano, che sono funzioni dirette, come appunto il riuscire a utilizzare la natura facendo una passeggiata in un bosco, oppure utilizzando il legname di un bosco, oppure il pesce di un lago o di un fiume. E poi ci sono quelle funzioni di carattere indiretto, cosiddetto indiretto, che sono i servizi ecosistemici di regolazione. Cioè ci sono dei meccanismi che permettono agli ecosistemi di funzionare bene, proprio per dare legname, per dare biomassa da cibo. E quindi questi servizi ecosistemici sono i cosiddetti servizi di regolazione, cioè la capacità degli ecosistemi di fissare nitride carbonica, di agire sul ciclo dell'acqua, quindi quantità di acqua, acqua di buona qualità e via dicendo. Trattenere il suolo. Quindi diventa estremamente importante che gli ecosistemi insieme funzionino nel miglior modo possibile, caratterizzando quello che è il capitale naturale, quegli insieme di beni e di funzioni, quindi di servizi, in questo caso, con cui noi dobbiamo necessariamente avere a che fare per capire, per prendere coscienza di quanto vale questo capitale naturale, cioè il lavoro della natura, quanto è importante per noi e quanto sia importante per il nostro benessere, per il nostro star bene. Quindi questi aspetti diventano chiave nel mappare, ad esempio, queste funzioni ecologiche e quindi vedere come interagiscono con la nostra attività, che può essere un'attività di tipo compatibile, pensiamo a un'agricoltura compatibile, oppure un'agricoltura sostenibile, oppure meno compatibile, come può essere, ad esempio, un'area urbanizzata, in cui occorre necessariamente ripercorrere i principi della natura. Quando parliamo di metabolismo urbano, quando parliamo di economia circolare, dobbiamo proprio recuperare questi aspetti in modo tale da rilasciare il minore numero di rifiuti e incamerare la maggiore quantità di energia, essere progressivamente energeticamente indipendenti, perché si possa, nel complesso, riuscire ad avere una capacità di funzionamento armonico con la natura. In questa struttura più ampia, di più aria vasta, che è l'infrastruttura verde o un'infrastruttura blu, nel caso ci possa essere un ambiente acquatico. Quindi questi sono gli aspetti importanti con cui noi dobbiamo fare i conti necessariamente nella pianificazione e nella progettazione, perché il mantenere una parte del capitale naturale nel maggior grado di funzionamento diventa indispensabile per il nostro benessere, per la nostra salute e per la salute di tutto l'ambiente, della biodiversità che ci aiuta a far funzionare in maniera ottimale i nostri ecosistemi.